Poi una guida alla grande, una scuola, c'era personale. Cari amici, oggi vi ho portato al quartiere Coppedè di Roma. Gennaro Gelmini, 29 luglio 2014, siamo al Coppedè, un antico quartiere di Roma. L'architetto Coppedè ha costruito questo quartiere. Molto grazioso, molto bello. Bellissimo portico. Grazie a tutti. Uno sguardo al quartiere Coppedè, con le sue costruzioni. La fontana. E' tornato il sole dalle nuvole. Grazie. Grazie mille. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.